Il proemio e l'ira di Giunone Andiamo a leggere pertanto i primi versi delle neide di Virgilio Ora siamo in seconda e li leggiamo nella traduzione italiana Se fossimo in quarta li potremmo leggere anche in latino E noi conosciamo il latino Arma virunque cano Troiequi primum saboris Vediamo magari di fare anche qualche accenno al testo originario latino Canto l'armi e l'uomo che per primo dalle terre di Troia Raggiunse esule l'Italia per volere del fato E le sponde lavini e molto per forza di dei travagliato in terra e in mare E per la memore e ira della crudere Giunone E molto avendo sofferto in guerra pur di fondare la città E introdurre nel Lazio i penati Di dove la stirpe è latina, i padri albani e le mura dell'alta Roma Ho sottolineato nella mia lettura, ho fatto capire Che il proemio è praticamente un periodo unico Che come vedete è molto lungo Occupa sette versi Ma questo è praticamente anche nell'originale latino Ecco quindi la scrittura molto più elaborata di Virgilio rispetto a quella di Omero Omero è anche un po' più semplice nella struttura del periodo Diciamo nella sintassi Qui ci sono più subordinate Ma soprattutto la grande differenza fra il proemio dell'Eneide E il proemio dell'Illida e dell'Odissea E la presenza della prima persona singolare Canto, soggetto, sottinteso, io Questa è una differenza enorme, abissale Perché invece nei poemi di Omero Non c'era l'io poetico Il poeta che parlava, che interloquiva con noi lettori Qui invece c'è questa presenza forte Abbiamo già sottolineato questa grande differenza Fra la soggettività, in un certo senso, del poema di Virgilio E invece la maggiore oggettività di Omero Omero ci racconta le storie ma non parla di se stesso Non parla in prima persona Insomma, comunque, se non raramente Parla sempre in terza persona, è oggettivo E invece Virgilio, in un certo senso, parla anche di sé Parlandoci di Enea, si coinvolge, si medesima con Enea, vedremo Canto le armi e l'uomo Arma virunque canò Le prime parole del poema Condensano già tutto quanto l'argomento del poema Quindi, diciamo, la guerra contro i latini E poi le vicende di Enea Che poi esule, viaggia, eccetera, eccetera Una cosa però strana è che le armi Cioè la guerra contro i latini In realtà verranno descritte e raccontate Nella seconda parte del poema Dopo Invece qua si trovano all'inizio Anzi, sono la prima parola proprio del poema Arma virunque canò Un'altra cosa importante è che i poeti Dei poemi cavallereschi Pensiamo soprattutto a Boiardo, a Dariosto e a Tasso Avranno come punto di riferimento sicuramente l'Eneide E non l'Iliade e l'Odissea L'Iliade e l'Odissea, ve l'ho già detto Quando sono state tradotte e lette direttamente Hanno un po' deluso i lettori Anche quelli umanisti rinascimentali, eccetera Perché sono un po' ripetitive E sicuramente non avevano tutta quella ricchezza Diciamo, espressiva Che ha invece Quella raffinatezza che ha l'Eneide Dicevamo che l'Eneide ha ispirato tantissimo I poemi, ad esempio, di Ariosto Le donne, i cavalieri L'arme, gli amori, le cortesie Le audaci imprese Io canto Così l'inizio del poema di Ariosto Dell'Orlando Furioso Appunto Canto l'arme capitano Che il gran sepolcro liberò di Cristo L'inizio del poema della Gerusalemme liberata Del Tasso Tutte cose che studieremo in quarta Ma iniziamo già a parlare di questo Cioè di come l'Eneide effettivamente ha influenzato Gran parte della storia della letteratura Allora, Latina sicuramente L'abbiamo già detto Da quando è stata pubblicata Volente o non volente il nostro autore Tanto ormai era morto Quindi non poteva farci più niente Anche se non voleva che fosse pubblicata Hanno deciso di pubblicarla Ma anche la letteratura medievale Poi quella, dicevamo, umanistico rinascimentale Ma l'abbiamo già detto L'ultima cosa che abbiamo detto la volta scorsa E che ha influenzato poeti come Baudelaire, Pascoli Quindi poeti Eliott, eccetera Decisamente moderni Canto le armi e l'uomo Che per primo dalle terre di Troia A dire la verità Non è il primo Perché c'era stato anche un altro Che si era salvato Insomma dalla distruzione della città Antenore aveva fondato la città di Padova Ma poi dice Per primo dalle terre di Troia Raggiunse esule l'Italia Voi dovete sapere che per i romani L'Italia andava dal Rubicone Arno, Rubicone in giù A sud dell'Arno e del Rubicone Mentre Padova che era a nord Dell'Arno e del Rubicone Era nella zona cosiddetta della Gallia La Gallia è cisalpina Non era Italia L'Italia da pochi decenni a dire la verità Quando scrive Leneide e Virgile Era un po' C'erano sempre stati gli italici Poi dopo c'era stata Dicevo pochi decenni prima di Virgile C'era stata la guerra sociale Che aveva comunque Anche se era stata persa dagli italici Aveva comunque riaffermato Diciamo l'identità dell'Italia Però ripeto Ecco perché dice per primo E' vero che Antenor era arrivato prima A Padova rispetto ad Enea Nel Lazio Ma Padova allora sicuramente Non era considerata Italia Raggiunse Esul in esilio Lontano dalla sua patria In esilio dalla sua patria Che non esisteva più del resto Perché è totalmente distrutta Dai Greci e dagli Achei E questa è anche una verità storica Perché Troia fu distrutta Effettivamente nel corso della guerra Storicamente combattuta Nel XIII secolo avanti Cristo Per volere del fato Ecco, fato è una parola Che deriva dal verbo deponente Fari Che non abbiamo ancora studiato Non abbiamo ancora studiato i deponenti Vuol dire ciò che è detto Ciò che è stabilito Specie di participio di questo verbo Ciò che è detto Ciò che è stabilito Per i latini Il fato era un'entità Sia un po' negativa Perché incombeva sull'uomo Perché si imponeva Ma in un certo senso Anche positiva Perché dava ordine Dava una certa direzione Una progettualità Al disordine della storia umana Se la storia fosse stata affidata solamente all'uomo Sarebbe diventata ordine e violenza Questo lo vedremo soprattutto L'ora prossima con Manzoni E il fato Certe volte interviene Per dare ordine a questo caos Quindi nello stesso tempo È una cosa complessa Dicevamo che questo poema È più complesso Perché da una parte Anche lo stesso Virgilio Lamenta Così come Enea Si lamenta Di questo fato Di questo destino Che certe volte Costringe l'uomo A Come dire A A mettere in secondo ordine I suoi sentimenti Ecco Ma d'altra parte Riconosce che il fato È il destino È importante Ecco Per Per il mondo Insomma Per l'umanità intera E le sponde Lavinie Enea Arriva in esilio Fino a Lazio Le coste del Lazio Sono definite Sponde Lavinie Perché là Lui fonderà La città di Lavinio Qui c'è un gioco di parole Nel senso che Sposerà Lavinia Che è la figlia di Latino E della regina amata Ma poi Fonderà la città di Lavinio Ecco perché Quindi Si chiamano così Sponde Lavinia Molto per forza di dei Travagliato In terra e in mare Quindi Perseguitato In terra e in mare A causa degli dèi In particolar modo Vedremo Chi è la principale Responsabile Di questi travagli Cioè di queste Sofferenze Di Enea E dei suoi compagni È Giunone Infatti poi dice subito È per la memore ira Della crudele Giunone L'ira La rabbia Di Giunone È fondata Sul Suo risentimento Sulla memoria Memore ira Sul ricordo Di tutti i torti Che lei ha subito O almeno lei ritiene Di aver subito Da parte dei troiani Siccome dei troiani In giro Non ce ne sono molti All'epoca Stati quasi tutti Uccisi Dai greci Ecco che Il povero Enea Anche se assolutamente Innocente Incolpevole Di questi Insomma Di queste offese Deve subire lui Le conseguenze Di tutte le offese Che ha subito Giunone Da parte dei troiani E molto Avendo sofferto In guerra Pur di fondare La città Con lo scopo Allo scopo Di fondare La città Ha dovuto Anche subire Ha dovuto Anche Combattere Contro i latini E quindi Affrontare una guerra Lunga Cruenta Sanguinosa Difficile Pur di fondare La città Questa era la condizione Sine qua non Cioè Inevitabile Per fondare La città La città Di Lavinio Dicevamo E introdurre Nel Lazio I penati Introdurre Quindi nel Lazio I penati Sono degli Dei Protettori Della casa E della patria Che lui aveva Condotto con sé Erano delle statuette Che spesso Venivano poste Diciamo Anche nella parte Centrale della casa Presso l'atrio E il focolare E che servivano Appunto Per proteggere Per ricordare Il legame Dell'uomo Con gli dèi Lui le ha condotti Religiosamente Lui è Pius Le ha condotti Dalla città di Troia Fino a quella Che doveva diventare La sua nuova città Di dove la stirpe latina E da lì Che deriva Discende La stirpe latina Dei grandi eroi latini I padri Albani Allora Non sarà lui A fondare Alba Longa Ma sarà suo figlio Iulo Ascanio Alba Longa Diventerà la città Più importante Del Lazio Nei secoli Successivi Fino a quando Dalba Longa Non arriveranno Insomma Romolo Eremo A fondare Un'altra città La città di Roma Le mura Dell'alta Roma E' tutto un Come una sorta di Filo del destino Che lega Che collega Enea A Iulo Suo figlio Ascanio E quindi Dalba Longa Dalba Longa A Roma E arriva fino All'Ottaviano Ottaviano Augusto Appartiene alla Gens Iulia Cioè Alla stirpe Fondata da Iulo Ascanio Termina la protasi Cioè Termina Quella parte In cui è condensato Il contenuto Del poema Il racconto La trama Insomma L'intreccio Del poema Cioè In queste sette righe Mi hanno detto Con quest'unico periodo Ha sintetizzato Quello di cui parlerà Nel corso Del poema Adesso Incomincia L'invocazione Alla Musa O Musa Dimmi le cause Per quale offese A suo nome Di cosa adorendosi La regina degli dei Costrinse un uomo Insigne per pietà A trascorrere Tante sventure Ad imbattersi In tanti travagli Tari nell'animo Dei celesti Leire Dicevamo che A differenza Dell'Odissea Che incominciava Così Narramio Musa E lì Quindi L'invocazione Della Musa Era all'inizio Del poema Poi magari C'era La protasi Poi dopo Omero sintetizzava Insomma I fatti Qua invece L'invocazione Della Musa Arriva dopo E Questo è significativo Nel senso Che Comunque Mentre per il poeta Aedo Tra virgolette La Musa Musa memoriam Nemosina Eccetera Era indispensabile Cioè perché Doveva ricordare I versi La Musa Lo ispirava Eccetera Questa volta La cosa Che è emersa Per prima Il fatto che Io canto Cioè Poeta Comunque Ribadisce In un certo senso La sua Diciamo Abilità Anche poetica E poi dopo C'è comunque Come una sorta Di tributo Alla tradizione In invocazione Della Musa Anche questa però Molto originale Rispetto a quella Di Omero Perché infatti Non chiede Cos'è che chiedeva Omero alla Musa Di ispirarlo Di fargli ricordare Tutte le imprese Eccetera Eccetera Invece qua dice O Musa Dimmi le cause Per quale offese Al suo nome Dimmi O Musa Perché Giunone Se l'è presa Così tanto Con Enea Dice Dimmi le cause Le motivazioni Per quali offese Al suo nome Alla sua divinità Numen Numinis Conosciamo in latino Questo termine Per quali offese Che sono state condotte Alla sua divinità Di cosa Dolendosi Dolendosi di che cosa La regina degli dei Quindi appunto Giunone Costrinse un uomo Insigne per pietà A trascorrere tante sventure Ad imbattersi In tanti travalli Perché Per quale motivo Giunone Se l'è presa Così tanto Con Enea Tali nell'animo Dei celesti Deire Questo è Un verso Insomma Una domanda Un'interrogativa Molto molto importante Perché dice Insomma Virgilio si chiede Ma è possibile Che ci siano Nell'animo Degli dei Dei sentimenti così Gretti anche Ostinati soprattutto Leire Una rabbia così Ingiustificabile sostanzialmente Cioè Perché Abbiamo già spiegato Enea non ne aveva colpa Ecco E in queste domande Dicevamo che Rosa Carzecchionesti Una critica Diciamo Ha evidenziato La particolare Religiosità Di Virgilio Che è una religiosità In cui si insinua Comunque Una domanda Com'è possibile Concepire Delle divinità Che Così Imperversino Contro gli uomini In questo modo Una sorta di Di primo Possiamo definirlo così Un primo ripensamento Dei romani Sulla loro religione Tradizionale Da parte di un grande poeta Di un grande pensatore Che poi Condurrà Nei secoli successivi A un cambiamento Epocale Quando Quando poi Si imporrà La religione cristiana Diciamo Quindi una religione In cui il Dio Cioè non è concepibile Che il Dio Sia così Ostinato Contro l'uomo Capite Allora Tutto questo Porterà A dei ripensamenti A delle domande Da parte Dei romani Stessi Sulla loro stessa Religione E quindi Poi ci saranno Dei cambiamenti In questo senso Lo vedremo poi Anche studiando storia Con la collega Però voi Non studiate storia Con me No No Bene Bene Allora Stavamo dicendo Adesso incomincia Terminata La protasi E l'invocazione Incomincia Il poema Delle Neide Incomincia In medias res Cioè Non incomincia Dall'inizio Dei viaggi Di Enea Da quando Insomma È stata distrutta La città di Troia È stato costretto Ad andare via Dalla città di Troia A cercare Un'altra città No Incomincia Quando già Sono passati Sette anni Delle sue Peregrinazioni Abbiamo già Parlato Dell'arco di tempo Delle Neide La volta scorsa Ecco Ci poniamo Esattamente In questo punto Della narrazione Non sappiamo Di preciso Quanti anni Poi In realtà In totale Non ce lo dice Virgilio Ci sono voluti Per Perché poi Enea Possa fondare Lavinio Eccetera Però ci dice Con precisione In un verso Proprio di questo Primo libro Che sono passati Sette anni Da quando lui È partito Dalla città Di Troia Quindi siamo Decisamente In medias res Questa È un'analogia Con l'Odissea Ricordate che l'Odissea Iniziava Anch'essa In medias res E dice però Ecco Attenzione Questa è una cosa Importante Praticamente Il discorso Non c'è Soluzione Di continuità Riparte Da quella Riflessione Da quella Domanda Che Virgilio Si ha appena Fatto Cioè Come mai Giunone È così Arrabbiata Con Ecco Noi ovviamente Adesso dovremmo Fare un piccolo Excurso Storico Cioè Spiegare Cosa c'entra Giunone Con I cartaginesi A dire la verità I cartaginesi Non hanno mai Chiamato La loro Dea principale Giunone Assolutamente La chiamavano In un altro modo La chiamavano Astarte Cioè Insomma I cartaginesi Erano Fenici I fenici Come abbiamo Spiegato l'anno scorso Avevano alcune divinità Le principali Di esse Erano Baal E Astarte Quindi Baal È un dio E Astarte È una dea In particolar modo C'era un tempio Di Astarte A Cartaginesi Ora Quando i romani Andavano E conquistavano Un'altra popolazione Eccetera Loro inglobavano La religione Di quest'altra Popolazione Nel pantheon Romano Latino Se poi La divinità Del posto Secondo loro Assomigliava molto Ad una Loro divinità Non stava lì A andare troppo Per il sottile Dicevano Che quella lì Era praticamente Giunone Anche se Di per sé Mai I cartaginesi Avevano chiamato La loro dea Giunone Avete capito Adesso Il concetto Poi Che cosa Fecero I romani I romani Spiegarono L'odio Ecco Questo l'avete appena Studiato in storia Cioè Diciamo così La rivalità Ecco Ricordate La storia La rivalità Fra Roma E Cartagine La spiegavano Con questa leggenda Cioè Che La fondatrice Di Cartagine Cioè Didone Sarebbe stata Abbandonata Sedotta Abbandonata Da Enea Che ne sarebbe Andato via Lasciandola Da sola Dopo Dopo aver Diciamo così Violato Il patto Di fedeltà Con Il marito Morto Cioè Sostanza Didone Aveva un marito A tiro Cioè In Fenicia L'attuale Libano L'attuale Libano Nella terra di origine Poi questo marito E' stato ucciso Da fratello Che era il re Della città Ora A quel punto Didone E' stata costretta A scappare Queste sono le leggende E' stata costretta A scappare Per Non incorrere Perché Addirittura Il marito Le è comparso Durante un sogno Durante un sogno Le ha detto Guarda Non è che io Sono scomparso Sono andato via Sono disperso No no Io sono stato ucciso Dal tuo fratello E se vai A scavare In quel posto La troverai Che mi ha sepolto lì E quindi Vattene via Da qui Non restare Un minuto di più Accanto a tuo fratello Che ha ucciso Il cognato E Didone Va Verifica Alla fine del sonno Va a verificare E effettivamente Vede che Il cadavere Il suo marito E' stato nascosto E quindi decide Di scappare E porta via con sé Tutti gli uomini A lei Fedeli E va a fondare La città di Cartagine Questa è La leggenda Delle origini Di Cartagine La storia Invece la sapete L'avete Conosciuta Studiata Con la vostra Professoressa Cioè è vero Che nel IX secolo A.C. I fenici Così come avevano fondato Tanti porti Eccetera Sul Mediterraneo Ha fondato Anche questo porto Appunto Nell'attuale Tunisia Il porto di Cartagine Che poi è diventato In realtà Una città importantissima Più importante Delle città di origine No? E beh Questo l'avete appena studiato Ha creato Una sorta di Egemonia Commerciale Soprattutto In tutto Il Mediterraneo Occidentale Poi ci sono state Le guerre puniche Che avete studiato State studiando Anche Le ore precedenti Ora Queste guerre puniche Sono state Tra le più difficili Sanguinose Cruente E pericolose Addirittura Per l'incolumità stessa Della città di Roma Come studierete Insomma Quando farete La seconda guerra punica Roma si è trovata Sull'orlo del Baratron Stava quasi Per essere distrutta E conquistata Dai cartaginesi Con Annibale Quindi è rimasto Dopo Che poi Roma Con una certa difficoltà È riuscita a riprendersi E poi a vincere I cartaginesi È rimasto Comunque Nell'immaginario collettivo Dei romani Questo Questa angoscia Diciamo così Questo trauma Delle guerre puniche Delle guerre contro I cartaginesi E loro giustificavano Questa rivalità In questo modo È una rivalità Di antica origine Che affonda Le sue origini In Didone Ed Enea E siccome La dea principale Il tempio principale Presente nella città di Cartagine Era un tempio Ad una dea Per i romani Assimilabili Alla dea Giunone Ecco che Così spiegavano Diciamo L'astio di Giunone Nei confronti Dei troiani Che avrebbero poi Originato Tutta la discendenza Dei romani Una cosa un po' Contorta Non so Però ecco Per i romani Invece Era una cosa Risaputa Una cosa Perfettamente lineare In base A quelli che erano I loro miti No? I miti e le leggende Delle origini Dei popoli Città antica Fu La tennero Coloni Tiri Ci fu Una città Una città Fondata Anticamente E fondata Da coloni Provenienti Da Tiro E quindi Tiro dicevamo Era una città Importantissima Dei fenici Cartagine Questa città Antica Lontano Di fronte All'Italia Lontano In Africa Però In un certo senso Di fronte All'Italia Cioè che fronteggia L'Italia Nel senso che È posta di fronte Alla potenza Di Roma E in un certo senso Da una parte E dall'altra Del Martirreno Queste due grandi potenze Si fronteggiano Come ben sappiamo Si fronteggeranno Con le guerre puniche Di fronte All'Italia È la foce Del Tevere Di fronte Alla foce Del Tevere Il discorso Che vi ho fatto E come Vi posso far vedere Anche dalla cartina Per gli antichi C'era proprio Questa Insomma Questa rivalità Che è quasi Insita Anche nella Posizione geografica Di Cartagine Ricca di mezzi Quindi molto ricca Di risorse Potente Fortissima Di ardore Guerriero E questo L'abbiamo già detto E lo state studiando In storia L'hanno verificato E come I romani Che sola Si dice Giunone Prediligesse Cioè Giunone soggetto Si dice che Prediligesse Solo Cartagine Cioè Che la preferisse Rispetto Ad altre città Fra tutte le terre Trascurata Samo Addirittura Anteponendola All'isola di Samo Che tradizionalmente È un'isola Appunto Devota A Giunone Dove c'era Anche lì Un famosissimo Tempio Dedicato A Giunone Molto Molto Importante L'isola in cui Era nata Giunone Samo Addirittura In cui erano avvenute Le nozze con Giove Ebbene Addirittura Sembra che Prediligesse Cartagine A Samo Qui Le sue armi Qui a Cartagine Le armi La potenza Di Giunone Qui Il suo carro Viene spesso Appunto Rappresentata Giunone Con il carro Il carro E le armi Simbolo Della sua potenza E la regina Degli dei Che questa Regni sui popoli Se i fatti Permettano La Dea Fin da allora Si prefigge E medita Ecco questa traduzione In italiano Comunque rende un po' La costruzione Elaborata Di Virgilio Era spesso Una costruzione Basata sulle Inversioni Ad esempio La Dea Fin da allora Si prefigge Fin da secoli E secoli fa Si era prefissa Aveva sognato Progettato Meditato Quindi pensato Che questa Cioè che Cartagine Potesse regnare Potesse predominare Essere egemone Sui popoli Se i fatti Permettano E si perché Il problema è questo Che al fatto Devono sottostare Gli uomini Come abbiamo detto prima Ma devono sottostare Anche gli dèi Giove Giunone Devono comunque Riconoscere Il volere superiore Del fatto Lei Di per sé Giunone vorrebbe Che Cartagine Fosse la padrona Del mondo Però bisogna vedere Se il fatto Glielo permette Tuttavia Sapeva Che sarebbe Discesa Da sangue Troiano Una stirpe Che un giorno Abbatterebbe Le rocche Tirie Tuttavia Sapeva Perché comunque Era una divinità Giunone Sapeva In anticipo Che dai Troiani Sarebbe Giunta Una discendenza Una stirpe La stirpe Dei romani Che un giorno Avrebbe abbattuto Le rocche Tirie Cioè Che avrebbe Distrutto Questa città Le rocche La rocca Abbiamo studiato Anche l'anno scorso Con Diciamo L'acropoli Eccetera Era un po' Il centro Della città La rocca Di Priamo Nella città Di Troia Insomma Sarebbero arrivati I romani Ad abbattere A distruggere La città Di Cartagine Qui stiamo Anticipando Anche qualcosa Che studierete In seguito In storia Studierete La terza guerra punica Che porterà A radere al suolo Si può dire Cartagine Distruggere totalmente La città Di Cartagine Lei lo sapeva Già Qui Anche qua Dobbiamo fare Un raffronto Con Omero Anche Omero Nell'Odissea Ci aveva parlato Di un dio Ostile All'eroe Principale Del poema Lì era Poseidone Il dio del mare Però L'aveva detto Effettivamente L'aveva detto Nel proemio Però non si era Soffermato Più di tanto Poi Insomma La narrazione Era andata avanti Subito Medias res Sì d'accordo Ma senza Troppi preamboli Qui abbiamo Un medias res Con un Dettaglio Di questa Responsabilità Della Dea Giunone Anche questo Secondo me È interessante È sempre il discorso Di quella famosa Domanda Ricordiamoci Quella domanda Sottolineiamola Tali nell'animo Dei celesti Deire Cerchiamo di capire Come mai Quest'ira Così implacabile Di Giunone Nei confronti Dei troiani Va nel dettaglio Virgilio Non accenna Solo Ma spiega In lungo e largo La responsabilità Degli dèi Dicevamo Quella domanda Cioè Sostanzialmente Il problema È questo L'abbiamo già Anticipato Cioè Virgilio Si chiede Potremmo dire Questo In sostanza Chi ha la colpa Del male Allora Chiaramente Per i greci Il male È dovuto Anche al destino Fatto E così E anche Agli dèi In un certo senso Il male Non è dovuto Agli uomini Ma Virgilio Si chiede Ma è possibile Una cosa Di questo genere Ecco perché Possiamo definire Virgilio Come una Una sorta di Intellettuale Di passaggio Ad una nuova Mentalità Perché Perché si chiede Se è possibile Concepire una divinità Che sia responsabile Di così tanti mali E quindi Implicitamente Il passaggio Che poi avverrà Ovviamente Con la mentalità Ebraico Cristiana Sarà quella di dire No, non è vero Che sono gli dèi La causa del male Ma è l'uomo stesso Va bene Andiamo avanti Di qui un popolo Largamente sovrano E superbo in guerra Verrebbe a rovina Della Libia Allora dice Attenzione Io però Giunone Pensa una cosa del genere Io però so In anticipo Che Dai troiani Da Enea Giungerà Qui In Libia I romani Chiamavano Libia L'Africa Settentrionale Tutta quanta L'Africa Settentrionale Quindi Arriverà qui A Cartagine Nella città Da me prediletta Arriveranno Arriverà un popolo Sovrano E superbo In guerra A rovinare A distruggere Questa città A cui io Tengo così tanto Così Filavano Le parche Ecco Le parche Sono le divinità Del fato Che sono Cloto Che fila Lo stame Della vita Dell'uomo L'Achesi Che lo misura E Atropo Che poi Lo recide Insomma Sono un altro Simbolo del fato Del destino Il destino È questo Temendo Ciò La Saturnia Quindi Anche qua In versione Cioè La Saturnia Soggetto Temendo Ciò Cioè Temendo L'arrivo Dei romani Discendenti Di Enea Perché è chiamata Saturnia Perché è figlia Di Saturno Sia Giunone Sia Giove Sia Nettuno Sono figli Di Saturno Quindi sono chiamati Saturnia Saturnia Lei Saturnio Giove Sono dei patronimici E memore Della passata guerra Che aveva fatto Per prima Troia In favore Della diretta Argo Ecco adesso Stiamo Snocciolando Tutte le motivazioni Possiamo anche Elencarle Quindi Possiamo dire La futura Scriviamola Anche sul libro Futura Distruzione Di Cartagena E questo L'abbiamo già visto Poi Possiamo aggiungere Adesso cosa possiamo aggiungere L'ostilità Nei confronti Dei troiani Sin dal tempo Della guerra Di Troia Giunone Era stata ostile Ai troiani Fra le divinità Che erano in campo Nella guerra di Troia Ricorderete Che Giunone Parteggiava decisamente Per i greci Ah sì Allora ovviamente Nell'Iliade Si chiamava Era Il nome Greco di Giunone Era Il nome greco di Giunone Era Era Ostilità Nei confronti Dei troiani Memore Della passata guerra Ricordandosi Della guerra di Troia Che aveva fatto per prima A Troia In favore Della diletta Argo Oltre a Samo Oltre a Cartagine Anche Argo Era evidentemente Una città Molto devota A Giunone Perché c'era un tempio Dedicato a Era Eccetera Ovviamente Per difendere La città di Argo Ricorderete Il re di Argo Di Omede Era Era Decisamente Della parte Dei Greci Degli Achei Contro i Troiani Poi Infatti Non le erano ancora Cadute dall'animo Le cause Dell'ira E i crudeli dolori Quindi È memore L'abbiamo già visto E sottolineato Più e più volte Giunone Cioè Si ricorda Le cause Dell'ira Della rabbia Contro i Troiani E tutti i dolori Nel senso Tutti i guerrieri Greci Ad esempio Che sono morti Sul campo Uccisi dai Troiani I crudeli dolori Rimane serrato Nel profondo Del cuore Rimane serrato Nel profondo Del cuore Il giudizio Di Paride Attenzione Ricorderete Quello che abbiamo Sediato l'anno scorso Cioè Le nozze di Peleo E di Teti Ricorderete che Paride Aveva assegnato Il pomo Della discordia Mandato dalla dea discordia Della dea più bella A Venere Cioè L'anno scorso abbiamo detto Afrodite Cioè Alla dea dell'amore E non Era Cioè Non Giunone E questa cosa Giunone Non l'ha più Dimenticata Ah Come Lei più bella di me No Non esiste E chi è che Chi era stato A decidere Decretare Che Venere Era più bella Di Giunone Era stato Paride Era stato un troiano Ai 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 Io quindi Cioè Io i troiani Non li posso vedere Non li posso vedere Non li vedo Invidia Poi l'anno prossimo Studieremo L'invidia Fra due anni Con Dante Quindi La questione di Paride Paride che sceglie Fra tutti quanti Fra tutte le dee Sceglie proprio Venere Come la più bella E non Giunone Neanche Minerva Questo lei Non l'ha dimenticato E memore di questo Poi ancora L'offesa Della spregiata bellezza Per una donna Disprezzare La propria bellezza È una cosa Inconcepibile Quindi Ritenere più bella Un'altra donna Ma non esiste Assolutamente E l'invisa Stirpe La stirpe Dei troiani È sempre stata Odiata da Giunone Da sempre Ecco Qui dobbiamo ricordare Un altro piccolo Particolare Cioè Giunone Era moglie Di Giove Ora Diciamo così Giove Non era molto fedele A sua moglie Aveva Svariati figli E non tutti Avuti dal regolare Rapporto Matrimoniale Con Giunone È il caso Ad esempio Di Dardano Dardano Era un troiano Figlio di Giove E di Elettra Quindi Giove Fra le Tante Donne Ninfe Eccetera Donne mortali Ninfe Divinità immortali Eccetera Con le quali Si era unito Aveva avuto Anche Elettra Ecco E con Elettra Aveva avuto Dardano Dardano Era il capostipite L'antenato Di Priamo E di Anchise Ecco Anche di Anchise E Anchise Che è il padre Di Enea E quindi Anche questo Non stava molto bene A Giunone Quindi La stirpe Dei Dardanidi I troiani Sono Stirpe di Dardano Sono discendenti Di Dardano E Dardano È figlio Di Giove E di Elettra Non è figlio Di Giove E di Giunone Questo non stava Assolutamente bene A Giunone Quindi questo era Un altro motivo Di Di odio Insomma Di Giunone Nei confronti Dei Troiani E gli onori A Ganimede Rapito Ecco Anche Anche Questo Racconto Mitologico Di Ganimede Serve moltissimo Per farci capire La mentalità Dei Greci Allora Dovete sapere Che per i Greci Non solo La bellezza Diciamo Non solo I rapporti Eterosessuali Erano ben Visti Rientravano Nella loro Logica Ma Rientravano Tranquillamente Nella loro Logica Anche i rapporti Omosessuali In particolar modo I Greci Dico i Greci Maschi Adulti Eccetera Amavano Moltissimo E apprezzavano Molto La bellezza Degli adolescenti Dei giovani Dei giovani Dei giovinetti Adolescenti Erano Attratti Molto Dai ragazzi Adolescenti Ecco Come? Un po' Anche i Romani Un po' Sì sì Un po' Anche i Romani Ma decisamente Meno rispetto ai Greci E i Romani Soprattutto per influenza Dei Greci Quindi Per i Greci Ad esempio C'era la Pederastia Cioè Diciamo così L'anziano Il saggio Eccetera Il maestro E soprattutto Il maestro Col discepolo Eccetera Instaurava un rapporto Ambiguo Diciamo E diciamo Anche un rapporto Di Di affetto Ecco Particolarmente Profondo E approfondito Ora Che cosa avviene A Giove Perché abbiamo detto Che Giove Insomma Amava donne Di ogni tipo Eccetera A Giove Un giorno Avviene Che vede Un giovanetto Un giovanetto Di Quanti anni avete voi? Di 15 anni Ecco Un giovanetto Di 15 anni Troiano Bello Proprio Bello 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 Dall'alto Lo vede Dall'alto Dell'Olimpo Eccetera Dice No Io voglio Quel giovanetto E allora Prende E rapisce Questo giovane È un troiano Si chiama Ganimede Lo prende Lo rapisce E dice Vediamo un po' Io lo voglio Qui sul monte Olimpo A fare da coppiere Agli dei A versarmi Da bere A versarmi Un ettare Dell'Ambrosa Lo voglio Qui accanto A me Sempre Ganimede Attenzione Piccolo Problema C'è qualcun Altro Che fa Il coppiere Degli dei Adesso Si veramente Ci sarebbe Tua figlia Ebe Che Una delle poche Figlie Che tu hai avuto Con tua moglie Giunone Perché insomma Ne ha avuto Pochi Insomma Hai avuto Sì Vulcano Festo Vulcano Poi c'è Ebe Ci sono pochi Almeno Almeno La figlia Giunone Ci tiene molto Almeno Ci tiene che la figlia Possa fare da coppiera Degli dei Niente Io sono il re degli dei Io decido Chi deve fare da coppiera Via Ebe Ebe La mettiamo da parte E arriva a Ganimede E fa il coppiera degli dei Ai 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 Questo è un ulteriore Motivo di odio Di Giunone Nei confronti Dei troiani A questo punto Ecco cosa sono gli onori A Ganimede e Rapito A dirata di queste cose Teneva lontani Dal Lazio Dal suo punto di vista Ci sono parecchie motivazioni Parecchie cause Per avercela a morte Con i troiani E per fare in modo Che i troiani Siano il più lontano Possibile dal Lazio Soprattutto Perché poi Abbiamo già detto No Altrimenti avrebbero distrutto Cartagine Eccetera Travagliati Per tutta la distesa Delle acque Cioè colpendoli Con tempeste In tutti i modi I troiani Relitti Dei danai Cioè I superstiti Quei pochi Insomma Che sono rimasti Vivi Che non sono stati Uccisi Dai danai I danai Sarebbero i greci Gli achei Che hanno sconfitto I troiani Alla fine Alla fine della guerra Di Troia Relitti Dei danai E del feroce Achille Quanti ne aveva Ammazzati Achille Vi ricorderete Si era anche Diventato Rosso Scamandro Il fiume Vicino alla città Di Troia E già da molti anni Erravano Spinti dai fati Intorno a tutti i mari Dopo Spiegherà Intorno al verso Settecento Di questo libro Che sono sette anni Precisamente Tanto costava fondare La gente romana Ecco perché Quindi C'è questo odio Abbiamo detto Sostanzialmente C'è un odio Una rivalità Tra Roma e Cartagine Che viene così Giustificato Così viene giustificato L'odio Di Giunone Nei confronti Dei troiani Ma diciamo la verità Malgrado tutto Questo elenco Di cause Diciamo la verità Sono tutte cause Fittizie Soprattutto Sono tutte cause Che non possono giustificare Un odio così Acceso E Proprio nei confronti Di quel poverino Di Enea Che invece È un uomo Pius È un uomo Che è devoto Nei confronti Degli dèi Quindi Insomma L'abbiamo studiato E questa cosa Dobbiamo studiare Eccetera Ma ripeto Rimane tutto sommato Quella domanda Ma è possibile Che ci sia Tali nell'animo Dei celesti Che ci siano Delle dire Così ostinate Da parte degli dèi Nei confronti Dei mortali E di un mortale In particolar modo Come Enea Altri video didattici Su A tuttascuola Punto it A tuttascuola Grazie a tutti.